Un consiglio comunale straordinario dinanzi all'evolversi di una pandemia che nella RSA di Morbegno, la casa di riposo Ambrosetti Paravicini, continua a mietere un triste tributo di vite umane e di positivi al virus Covid-19. Andrea Ruggeri, ieri la presentazione di una richiesta di convocazione straordinaria, sei firmatari, che cosa chiedete di fatto al vostro sindaco? Di fatto chiediamo di confrontarci sulla situazione pandemica in corso in città e in particolare in casa di riposo e la valutazione dell'operato da parte del consiglio di amministrazione. Questa discende dal fatto che da tempo il gruppo Cambia Morbegno, il consigliere Angelo Rovedati e le sigre sindacali abbiano sollevato quesiti, abbiano posto domande e sollevato preoccupazioni sia al sindaco sia al CDA della casa di riposo. La situazione a nostro modo di vedere sin da metà marzo era già drammatica e a fronte di rassicurazioni vuote di contenuto abbiamo deciso di provocare il sindaco con un interpello in forma riservata. La preoccupazione nostra è diventata triste certezza, perché il sindaco ha sempre dichiarato sino all'ultimo momento è tutto sotto controllo. Sarebbe bastato cogliere la mano tesa della città intera, continua Ruggeri. Ora chiediamo chiarezza per restituire umanità ai degenti, ai parenti degli ospiti della RSA, agli operatori che tra quelle mura prestano quotidianamente il proprio prezioso servizio, per restituire dignità a chi adesso non c'è più. Una situazione che definire tragica è di fatto un eufemismo. Lei è divenuto punto di riferimento sia per i familiari che anche per la parte dei dipendenti della RSA di Morbegno. Per ciò che l'hai dato a sapere, qual è la situazione nell'attuale? Innanzitutto posso dire che è triste questa mia condizione. Mi può fare onore sotto un certo profilo, ma mi rattrista molto, perché non dovrei essere io il riferimento di queste persone. Certo mi onora di poter essere per loro un punto di riferimento, cosa che non mancherò di fare. La situazione, a mio modo di vedere, da quello che so io, dalle parole che ricevo è altamente drammatica, ma non sta a me stabilire i motivi e le motivazioni. Voglio che però il perché emerga in maniera chiara. Questo a tutela di chiunque. Ci dobbiamo affidare a chi è preposto a fare chiarezza e luce su una situazione che è stata, secondo il nostro modo di vedere, ma credo sia abbastanza evidente, offuscata da troppo tempo. Intanto, nella mattinata di oggi, sopra al luogo dei carabinieri dei NAS di Brescia, presso la struttura della RSA Morbegnese. Un'operazione dovuta nell'ambito dell'indagine coordinata dal procuratore Claudio Gittardi e dalla PM Elvira Anna Antonelli per epidemia colposa a carico di ignoti, connessa ai decessi degli anziani ospiti delle case di riposo della provincia. In questa fase io rimango fortemente garantista e non vorrei che passasse il messaggio che questo sia un gioco delle parti. Io voglio chiarezza. I consiglieri pretendono chiarezza. Il consiglio comunale, che rappresenta la città tutta, ha il dovere, nei confronti di chi sta soffrendo, di avere la necessaria chiarezza. Una generazione intera sta scomparendo in silenzio, senza il conforto dei parenti, che non possono visitarli. Questa cosa non può essere sottaciuta.